Prime One Studio è orgogliosa di presentare un'altra collaborazione con Mega House per offrirvi il tanto atteso principe della razza Saiyan, Vegeta, realizzato per la collana Mega Premium Masterline, in scala 1 a 4. Vegeta è l'eterno rivale di Son Goku e per lungo tempo ha vissuto per diventare più forte per essere in grado di affrontare chiunque, un guerriero orgoglioso, sfrontato e senza paura, un vero e proprio Saiyan. La collaborazione tra Mega House e Prime One ha portato a una delle realizzazioni più epiche del personaggio, immortalato mentre sta caricando il suo famosissimo Big Bang Attack. Completo di illuminazioni a LED, questo capolavoro unico nel suo genere è immancabile se amate questo tipo di produzioni. Specie si è abbinato alla statua già realizzata di Goku, creando l'esposizione Saiyan definitiva. La statua conterrà alcune parti intercambiabili, come mani di ricambio per Vegeta, qualora non si volesse esporre con il Big Bang Attack, ed ulteriori effetti scenici da apporre intorno alla base, per ampliare l'impatto visivo in esposizione. Si potranno anche sostituire le pietre a mezz'aria intorno al personaggio con alcuni fulmini, come a voler simulare lo stadio di Super Saiyan di secondo livello. Il vero must è però la versione deluxe, con ben quattro volti in totale per Vegeta, tra cui una non in forma di Super Saiyan, per variare ulteriormente l'esposizione. I volti riprendono con fedeltà il design del personaggio, ma purtroppo molti fan non l'hanno particolarmente apprezzata fin dal suo debutto agli eventi del settore, ma rimane decisamente una statua epica e degna di uno dei personaggi più forti ed amati di tutto Dragon Ball. Ed ovviamente una statua di tale dimensioni è accostata ad un prezzo di taglia generosa, 1.100 dollari per la versione base, 1.350 per la versione deluxe. L'attese anche non è da poco, visto che si parla di marzo 2022. Come sempre vi invitiamo a farci sapere un vostro parere e non dimenticatevi di iscrivervi al canale.